Bandiere gialle sul lungomare di Ponte Cagnano-Faiano. I volontari di Lega Ambiente sono arrivati questa mattina in prossimità della spiaggia di Magazzeno con striscioni e cartelli per un flash mob di protesta contro il progetto di difesa del litorale salernitano da Ponte Cagnano a Pestum. Come può un pennello arginare il mare e la scritta sullo striscione srotolato da Lega Ambiente con lo sfondo e il tratto di mare salernitano, oggetto dell'intervento di difesa mentre i volontari hanno innalzato cartelli con le scritte soldi buttati a mare, difesa celle litorale in prigione. Il flash mob è stato promosso da Lega Ambiente a pochi giorni dal 15 giugno quando il TAR si dovrà esprimere sul ricorso inoltrato dall'associazione riguardo il progetto di difesa del litorale salernitano da Ponte Cagnano a Pestum. Il progetto interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno nei comuni di Ponte Cagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli, risulta difforme rispetto alle disposizioni della direttiva europea per l'azione comunitaria in materia di acque. La nostra protesta ha commentato ai nostri microfoni Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania, è partita quasi dieci anni fa quando abbiamo denunciato per la prima volta il progetto poiché già allora risultavano abusoleti gli interventi e le opere risultate inutili altrove. Riportiamo l'attenzione su un progetto che seguiamo da quasi dieci anni e lo slogan di questa mattina è come può un pennello arginare il mare, una provocazione che abbiamo lanciato per raccontare la complessità di un problema come l'erosione che non si può risolvere con un progetto che prevede delle opere rigide e obsolete che stanno già smantellando in altre parti d'Italia e d'Europa. Invece chiediamo di intervenire su più settori dalla depurazione alla pulizia dei fiumi, con i contratti di fiume che stanno partendo e di non poter immaginare la stessa soluzione da Ponte Cagnano fino a Pessum che chiaramente hanno dei problemi differenti. In questo caso dite no, riferendoci invece alla città di Salerno dove il ripascimento è a buon punto e una parte soprattutto della zona orientale della città ha permesso con dei lavori di restituire la spiaggia. Cosa dice Lega Ambiente? Anche in merito alle problematiche, alle polemiche di questi giorni sull'utilizzo della spiaggia libera e sulle palizzate che sono state montate sulle spiagge? L'accesso alla spiaggia libera diventa sempre di più un privilegio purtroppo e tanti cittadini soprattutto in questa fase non possono permettersi lì, quindi deve essere una battaglia politica importante, una richiesta di liberare le spiagge. Dall'altra parte alcuni interventi funzionano perché sono progettati secondo quella spiaggia, secondo quel pezzo, però bisogna vedere subito dopo che cosa succede perché se non si interviene in maniera complessa è chiaro che il problema lo sposteremo di qualche chilometro, quindi lì ritornerà probabilmente la spiaggia ma ora vedremo che cosa succederà a pochi chilometri.